romeo benvenuto a chiavari quali sono le tue prime sensazioni da nuovo giocatore dell'entel sono molto contento di essere qua una società molto importante come questa è un posto bellissimo vicino a casa mia un posto che conosco sembra tutto molto professionale sono molto contento di essere qua abbiamo letto nei giorni scorsi tanti interessamenti nei tuoi confronti che cosa ti ha spinto ad accettare il progetto bianco celeste si è stata una trattativa molto lunga io ero disponibile fin dal primo momento appena ho ricevuto la chiamata e l'ambizione ovviamente della società e che è diversa dalle altre in cia poche quali se riduci da un anno e mezzo in serie b con la maglia del modena quanta voglia hai di dimostrare il tuo valore di giocare con continuità ma un sacco un sacco perché soprattutto negli ultimi sei mesi non sono riuscito a trovare tanta continuità tanti minuti e non vedo l'ora quindi di ritrovarla e dimostrare ciò che valgo sei un giocatore con giocate forte tecnicamente che cosa vuoi portare che cosa pensi di portare a questo gruppo ma spero di dare una mano sono a disposizione del mister e cercherò di fare quello che mi riesce cercare di creare qualcosa là davanti come stai fisicamente bene dai anche un po che non gioco ma sempre allenato